Vista come è iniziata la partita, sicuramente un punto d'oro per la Juventus, soprattutto perché il Cagliari a fine primo tempo è un vantaggio per due gol, ma non voglio, come sempre, fare l'analisi della partita, bensì voglio concentrarmi su un aspetto che ovviamente è il più discusso in queste ultime settimane. Che futuribilità la Juventus? Secondo me zero, secondo me zero, lo ripeto per l'esima volta, lo so che sarò ridondante e so che il tema è ridondante, ma quando si vede uno scempio come quello di ieri, soprattutto al primo tempo, penso che mi viene veramente difficile non parlarne, a me ma come a molti altri creator che trattano di calcio al netto insomma dei content creator juventini. Ma la Juventus veramente aberrante, nel primo tempo totalmente nel dominio del Cagliari, nel secondo tempo la Juventus ha avuto la razione di nervi con un Cagliari che comunque si è abbassato e la Juventus che giocò forza ha preso un pochino di campo, diciamo così, ha alzato il baricentro e ha preso il premio del gioco, infatti il possesso palla è stato nettamente a favore della Juventus, ma una Juventus senza idee di gioco. Una Juventus che nel primo tempo difensivamente è stata scandalosa sia a livello difensivo che a livello di fase difensiva. Anche il secondo rigore, voglio dire, gli Gatti, secondo me sarebbe dovuto essere un pochino più intelligente, fare qualche passo indietro, o meglio, una volta è stato effettuato il passaggio, facevi il passo in avanti e cercavi di mettere in fuorigioco Luvumbo. Anche perché è l'ultimo uomo, insomma, Gatti non ha le leve da stare dietro a Luvumbo, anche se comunque Gatti non è proprio lentissimo, ma vuol dire con Luvumbo così in partita e con quelle gambe così forti, insomma, che lo rendono molto breve sul lungo, insomma, secondo me Gatti avrebbe dovuto agire un pochino più di intelligenza, ecco. Ma, ripeto, una Juventus senza nerbo, senza istinto di reazione, senza palle, veramente senza palle. E mi viene in mente la conferenza stampa di dimissioni di Lippi dall'Inter. Se fosse il presidente, in primi scaccia l'allenatore, seconda cosa, attaccherei al muro tutti i giocatori e ripenderei a calci e in sedere. Io onestamente farei così, perché io non capisco neanche le parole di Giuntoli, sebbene in parte le giustifichi per un discorso di far quadrare il discorso tecnico con quello sportivo, un aspetto che è sottoniato lo stesso Giuntoli, ma io non, ripeto, non capisco questa, ad ora, questa, questo fissarsi sull'andare avanti con Allegri. È arrivato il momento che una scelta deve essere presa, o lo si caccia e si decide di fare lo sforzo economico, oppure lo si tiene, perché altrimenti sarebbero ridicole tutte quelle voci che portano a Motta, col fatto che comunque è difficile strappare Motta a Bologna, o quantomeno strappare Motta a concorrenza, perché non è proprio così detto che vada via da Bologna, ma è tutt'altro che detto che rimanga a Bologna. Insomma, deve essere trovata una soluzione. Quindi o giunto l'istaltamento veleffando, o c'è qualcosa che non torna. C'è qualcosa che veramente non torna, perché vedo una voglia di farsi il male, un masochismo riterato, portato all'estremo da parte della dirigenza juventina. Ma al di tutto è una Juventus che manca sotto ogni aspetto. Una dirigenza totalmente assente, un Allegri che ripete sempre le stesse cose, fa sempre i stessi errori, una Juventus che scende in campo e che si comporta sempre nello stesso modo, grosso modo, scende in campo a molle, più a uno, due schiaffoni, poi forse, 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 reagisce. Un Allegri che lascia fuori, secondo me, un Diz che adora, deve continuare a giocare, e che poi alla fine della partita mette sempre dentro 300.000 attaccanti. Senza senso, senza senso. E poi ragazzi, giocatori che a mio avviso sono sopravvalutati, cioè basta, basta, basta. Non voglio più sentir dire Locatelli, Chiesa. Ragazzi, Chiesa e Locatelli stanno incidendo, poco, poco. Chiesa gioca una partita bene e 5-6 male. Magari poi due sta fuori per l'infortunio, poi rientra, ne fa una bene e altri 5 male. Ho letto anche delle statistiche che dicono, eh vabbè, ma se si glorifica Leao bene o male, le stesse statistiche sono le stesse di Chiesa, ma sono giocatori votati in maniera diversa. Leao, un potenziale campione, Chiesa, te vi ho detto un fannullone, diciamo così, perdonatemi il termine. Un giocatore che sta underperformando. Ma l'errore non sta nel considerare Chiesa che mi underperforma. L'errore sta nel considerarmi un fenomeno Leao. Ragazzi, Chiesa, bulico, Chiesa, non azzecca una giocata. Non ne azzecca mezza. Mezza. Locatelli, in un minuto, in primo tempo, ha sbagliato tre palloni della più grande stupidità. Blaovic è uno che avrà magari i suoi difettucci, però ti tira la carretta, ragazzi, è il bomber. È il bomber, un Rabiot. Ragazzi, Rabiot è inguardabile, è inguardabile. Se deve essere così, Rabiot, se ne vada. Ma se ne vada, io penso che questo Rabiot, nessun tifoso juventino lo rimpiangerebbe. Perché è inutile. Se si stanno rivelando importanti giocatori come McKennie, che fino all'estate 20-23, venivano consigliati come partenti, al di là che comunque McKennie si sta rivelando un ottimo giocatore, soprattutto a livello di assist, quantomeno in questa stagione. riflettiamo, ragazzi, riflettiamo. È un esubero, una squadra che si fonda su un esubero. O l'esubero è stato fatto a monte, che è stato considerato poco, quindi non è un vero esubero, bensì un giocatore mal considerato all'inizio, oppure è un esubero che sta overperformando in questa squadra, che sta performando in maniera indegna. a tutti i livelli. Tecnico, tattico, di personalità, e sono aspetti che devono considerare quelli della Juventus. Perché la Juventus è irriconoscibile. E vi dico, è già un miracolo che sia terza in classifica. È già un miracolo, e attenzione che nelle ultime sei, cinque, cinque mi pare, cinque, sei partite che rimangono. Ragazzi, il Bologna e la Roma possono tranquillamente superare la Juventus. Devono fare attenzione. Perché il tenne della Juventus non è buono, è scarsissimo, è deficitario, è scandaloso in questo 2024. E io con tutto il bene che voglio al Cagliari, che insomma ha dimostrato attaccamento e tutto, ma stiamo parlando di Juventus, che si è fatto a fare due gol dal Cagliari, con uno Shomurodov che fino a ieri sembrava il fantasmino Kasper. Oggi ha giocato benissimo Shomurodov. Allora, o si è svegliato oggi, ma mi dubito, perché Shomurodov ha criticità ben note da anni, ma oggi gli hanno fatto fare il Diavola 4, quello della Juventus. Quindi, pochissime di cose sono da considerare il giusto modo. E poi sempre lì voglio tornare in conclusione del video. Questa Juve non ha assolutamente futuribilità, non ha progettualità né niente, ma zero. Si vuole progettare su Allegri? Bella cavolata. Io se fossi Allegri, al di là che non lo farebbe, ma la Juve che, questa Juve che in tre anni Allegri non ha costruito niente, io sono primo che ho detto Allegri in certe occasioni è stato l'uomo giusto nel momento giusto, verissimo, ma adesso no. Si incancinisce nelle idee, non osa, non prova. Sempre questa cosa della calma, della testa, la testa, non devi fare così questo simbolo a tre minuti alla fine, devi far scendere la tua squadra in campo con la bava alla bocca e giocare anche con testa quando si deve, ma negli ultimi minuti che tu devi lanciare il cuore oltre l'ostacolo non puoi dirmi testa, testa, testa. Prima di aver testa già vi posso dire voto il campionato della Juventus 4, veramente, veramente scandalosa la Juventus quest'anno, scandalosa Allegri, difficili ai giocatori, società, non pervenuta e l'unico che mi sento un po' di salvare è giunto lì, che si è venuto a trovare in una realtà non lo so, che se fosse cascato la bomba atomica forse avrebbe fatto anche meno danni. Comunque, comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra impressione, vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!